we bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video a me piace sinceramente questa modalità raga ragazzi l'ultima se non funziona qui basta raga prometto che se qui non funziona mi fermo ok eccolo 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 perfetto è sempre così ok 26 voli per sempre l'altra parte e io sono a fortezza dove ci troviamo fanti al tu sei a molly è il veicolo io sono a piedi e sono a fortezza riesce ad andare al facciamo dal colocchiale ce la facciamo ce la facciamo ce la facciamo let's go sento una macchina ti vedo se col pick up eccati se il pick up scendi alleiamoci allora cannocchiale su di bottoli non facciamo distruggere il veicolo a terra 1 a terra 1 piano piano non c'è fretta e non ci dobbiamo buttare taserano o tonica di benzina lol eccoci allora caricare anche dietro sì ma preferire tenerla adesso questa tonica eventualmente poi la cariciamo perché se lo fanno esplodere perdiamo anche la tonica è davanti no fanti la prego salga fatti salga via 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 figa non sale panica di benzina anche qui ma guys si fa siamo assolutamente nulla però siamo al sicuro abbiamo due toniche di benzina quindi si può fare che si vai dritto dritto qua siamo nel tunnel che nel nella gola che c'è trovato esattamente bravo ok faccio fatica con fanti farò fanti lei non può io sto uscendo dal dritto mi ci troviamo qui al punto blu ok siamo in 4 siamo in quattro fatti dobbiamo allearci no dobbiamo allearci fatti vinciamo poi vai vai andiamo a pantano benzina piena benzina piena prima si dà qualcosa città l'air drop non lo so fatti ma stiamo prendendo un botto di tempo comunque ancora 15 minuti dai si può fare col veicolo si senta fare di prendere le armi leggendari e che cos'è che vuoi prendere ci facciamo da un pezzo di qualcosa non so ok anche perché infatti non abbiamo troppo troppo tempo e noi sai che cosa dobbiamo fare così il pezzo il pezzo il pezzo eccolo poi prendi lo ok lupo tolto dove il pezzo il pezzo pezzo c'è lo trovo io ok andiamo da messo all'arrivo niente si prego sali fanti ok voglio fare prima cosa dovrebbero se dovrebbe esserci le gomme ci sono ok cioè cambiamo subito è anche pieno quello sarà si diamo uno perfetto andiamo prenderlo andiamo prenderlo artiglio a pantano vieni è nostra questa partita fanti è nostra guys ci stanno aspettando per killarci bene adesso vediamo chi killa chi porta hanno portato un pezzo adesso un problema sì che vero è un problema adesso fatti non c'è davanti di davanti artiglio uno che lato da raptor ma ok fatti dove vogliamo anche io vai quindi lei ok depingo i piccoli tre puntini tre puntini se 100 metri andiamo siamo in 3 siamo 2 di 1 let's go buono siamo 2 di 1 vieni quanti siamo in 2 è morto in focato signori siamo in 2 come c***o fatto a morire in focato quello quanti abbiamo sette minuti per vincere dobbiamo dividerci fatti ma le bisne le pro ok ecco il pezzo diamo ma il pezzo 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 ma il pezio vado a piedi ci rivediamo dai 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 ma i miei stanno lo fai chi ma installano 6 minuti e 56 fanti dobbiamo farcela dobbiamo farcela minchia certo pezzo ci dovete quattro più ping prenderlo allora monta molto torno indietro per forza per forza portare io ce l'ho io siccome aiuti è possibile tornare e già installato non ci serve ma tu che pezzo ai fatti non sto portando io quello che vede sì ma il rotore già installato fatti cristo pink blu pink blu vicino di benzina a chiudere sempre dietro a fare benzina faccio benzina aspetta che ho droppato il coso fermati fermati non riesco a prenderlo fatti ti prego prendi il coso di benzina se riesci ti sparano fatti vai fatti fai qualcosa no ma c'è l'ho chi ammazzia 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 ammazzì ok andiamo fatti vieni vieni basta 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 certo è già benzinata no ma il problema che non capisco dove prendere ma non c'è la missione e infatti come facciamo raga ma dove cazzo non è che l'altro ci dà un pezzo non so fanti fanti siamo due perché abbiamo chinato il raptor stalla installa l'elicottero si riesce ad arrivarci e io sono qua al cannocchiale non ti darà niente in stagista l'elicottero fatti quanti secondi c'è motore c'è motore e quindi lo installo mi sparano da fatti e chi non le chi non le chi lo sto arrivando non usare non usare il busto non usare il busto piano sono l'uso a terra qui l'aspetto qui sto arrivando fanti è fatta è fatta è fatta è fatta veloce che c'è il suo arrivato sono arrivando sac a fare benzina sac a fare benzina vai la sta facendo scappo di qua la fa o non la fa sì sì la fa la fa vai vanti vai non ho più benzina non bustare non bustare tannica finita tannica finita dove c'è il pig? quello è la blu parca di azzo non lo sapevo abbiamo cure? no in caso? non vedo la benzina io non ce n'è più di benzina fatti no nel senso di quanto ne abbiamo e allora non so cosa dirti fatti vai su quel coso senza bustare sta finendo la benza non bustare non bustare mi suona che sta finendo ma non bustare ti prego vai dritto per dritto ti prego non ci arriviamo sono finita la benza benzinaio qua? a terra ho un benzinaio qui? a terra qui perché sennò esplode le tue otto no no benzinaio sul blu benzinaio sul blu 360 metri avanti vai a terra a terra a terra non abbiamo tempo fatti ti prego a terra a terra a terra piano vai fatti 92 vai 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 non lo so fatti ma devi faccio cantare il fatti togli uno fatti è fatta è fatta è fatta busto? no fatti 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 sta finita la benzina fatti scendi un po non lo so ma scendi un po di più perché non funziona raga perché non funziona? raga perché non funziona? fatti cerca un cerca oddio l'ho visto io l'ho visto io vai sopra sacca sacca oh oh ricky let's go let's go no Re Lord we Rگ no 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 Grazie a tutti.